Assegno unico, nelle richieste bisognerà fare attenzione ai nuovi indicatori dell'Isee per non avere ripercussioni sulla cifra finale. Per inserire gli aggiornamenti c'è tempo fino al 28 febbraio. In mancanza di aggiornamento a partire da marzo verrà erogata solamente la quota minima di 50 euro per ciascun figlio. I prossimi assegni, quindi di gennaio e febbraio 2023, saranno calcolati in base all'Isee 2022 oppure all'Isee 2023 se già presente. Da marzo l'importo sarà determinato in base esclusivamente all'Isee 2023, dunque in mancanza della certificazione l'assegno si fermerà alla quota minima di 50 euro, salvo il conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell'Isee entro il 30 giugno.